Se state riscontrando problemi ad usare così il controller su Star Wars Outlaws, quindi in questo caso è possibile disconnettere del tutto il controller, quindi rimuovere ogni singola traccia del tuo controller dal computer e poi riconnetterlo da capo e aggiornare così i suoi driver e stai certo che poi funzionerà. Quindi in questo caso andiamo un attimo su gestione dispositivi, quindi tasto destro su Start, poi su gestione dispositivi, collego così il mio controller, come puoi vedere ho collegato la mia periferica, è un controller wireless ed eccolo qua, ho attivato così il mio controller Xbox 360 per Windows, me lo segna in questo modo, quindi il mio controller viene così rilevato sul mio computer. tasto destro sopra, aggiorna driver, cerchi driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili, clicco questo qua, faccio avanti e aggiorno così e installo i driver per il mio controller. Ovviamente occorre riavviare il computer affinché l'hardware funzioni correttamente, faccio un attimo chiudi, faccio no e faccio un attimo chiudi qua. In questo caso scrivi qua sopra, trova e risolvi i problemi di dispositivi Bluetooth, se hai un controller Bluetooth puoi semplicemente risolvere e prevenire problemi del computer, quindi avanzate, esegui operazione di ripristina automaticamente e faccio avanti. Facciamo così uno rilevamento, il dispositivo non è dotato di Bluetooth, quindi in questo caso se il tuo computer ha un Bluetooth e ti rileva qualcosa di dannoso puoi aggiustarlo direttamente su questo supporto qua. Se non dovesse funzionare ancora andiamo su impostazioni dei dispositivi Bluetooth, qui ci sono tutti i dispositivi che abbiamo connesso sia wireless, cavo USB e Bluetooth ed eccolo qua Xbox 360 per Windows. Ora, se il tuo controller è connesso qua sopra ma non funziona, quindi lo tieni in mano il controller ma non funziona, però sta segnato qua, clicca sui tre puntini e fai rimuovi. Rimuovo così anche la chiavetta, quindi rimuovo la chiavetta, riconnetto così la chiavetta, ricollego così il mio controller ed eccolo qua. Una volta fatto chiudiamo un attimo questa schedina, se non dovesse funzionare andiamo direttamente su controller, quindi scrivi controller e ti uscirà configure dispositivi di gioco USB ed eccolo qua, ci ricco sopra. Se dice che non c'è nessun controller connesso, come puoi vedere è periferica, qui dice nessuno. Chiudo un attimo, ricollego di nuovo il mio controller. Quindi va riavviato anche il computer una volta fatto l'aggiornamento del driver su gestione dispositivi, tipo questo qua. A me dice che il dispositivo funziona correttamente. Quindi configuro dispositivo dispositivo di gioco USB, come puoi vedere il controller funziona. Faccio ok, vado su proprietà, vado su avanzate qua e inserisco il mio controller. E chiudo qua. Se non dovesse bastare, scrivi firmware update per DualSense. Aggiornamento firmware per il controller wireless, tipo anche i controller della Playstation che hai connesso al tuo computer e quindi vuoi aggiornare, adesso faccio sì. Connetti il controller al computer mediante il cavo USB. Ovviamente in descrizione ti ho lasciato così questo firmware per il controller wireless DualSense. Quindi se usi un controller con il cavo, usa pure questo programma. E il controller funziona perfettamente su Star Wars Outlaws. Come puoi vedere funziona benissimo. Quindi se hai ricevuto altri problemi puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.